Siamo alla presentazione della nuova stagione del Teatro Verdi di Pordenone, questo è sempre un evento importante nella vita culturale della città, importante perché da un lato conferma la centralità di questo contenitore culturale, chiamiamolo così, che è ben più di un contenitore, e dall'altro, viste le difficoltà del momento, tutte le polemiche e le discussioni sicuramente giuste che ci sono intorno al mondo della cultura, ci aspettiamo di comunque vedere un carnet particolarmente ricco, quindi forse addirittura allargato rispetto agli scorsi anni, ma anche con un tocco di qualche cosa in più che il presidente del Teatro Verdi, Giovanni Lessio, e le persone che lavorano con lui ci hanno promesso. Quindi vediamo, c'è un attimo un po' di attesa in questa presentazione perché deve dare un cenno di discontinuità rispetto alla precedente, ma anche una riconferma di quanto sia importante il Teatro a Pordenone e per la sua provincia.